Abbiamo tutto il Portovecchio, lunedì a mezzogiorno firmiamo i 50 milioni. Lunedì a mezzogiorno io, la Presidente Seracchiani e Zeno D'Agostino firmiamo i 50 milioni. Quindi arrivano finalmente? No, ci sono e finalmente partirà la rotatoria di Barcola che porterà la strada all'interno del Portovecchio e che uscirà e avremo l'accesso. Cioè ci sarà una grande, all'altezza del ponte, 500 metri più avanti, una grande rotatoria che chi arriva da Barcola potrà entrare nel Portovecchio chi esce dal Portovecchio troverà la rotatoria francese e potrà andare verso Barcola. Abbiamo vinto la città della scienza 2020. Allora come sempre si fanno delle cose, vedi l'Expo a Milano e poi rimane il deserto dei Tartari. Allora io ho detto spendiamo bene i denari che abbiamo più potremmo aggiungere qualcosa al 27-28 e potrebbe venire fuori questo. Cos'è questo? Un centro congressi insieme, fai tu che sai che sei tecnico e alla fine poi spendendo qualche milione in più potremo avere questa situazione. Allora qui tanto per dire ai cittadini abbiamo il 26, questa è la stazione elettrica, questa è la stazione idrodinamica, potremo avere a disposizione una sala congressi da 2000 posti più tutto questo che poi potremo fare, la fiera del caffè, la vinita lì, la fiera dell'olio, tutto quello che pensiamo che possiamo portare qua dentro. Quindi lei dice questo che noi stiamo vendendo qua ci sarà nel 2020. Ecco, il problema è questo. realizzare in due anni questo, invece che fare cartongesso che poi tutto, questo potrebbe rimanere la città. Cioè come ricordo dell'Aesof 2020, ma andiamo a investire del denaro che rimane. Questo è il ponte che vedete che unirà i due magazzini. Perché l'unica ansia, qual è la mia ansia? Che ho a disposizione qualcosa come due anni e due mesi. Se per esempio faccio una gara e il secondo ricorre al TAR e perdo 6-7 mesi, sono fregato. E allora sto studiando una formula, che adesso è troppo complicata a spiegarla ai cittadini che ci stanno ascoltando, per evitare questo facendo in pratica un project. Se riesco a fare un project e che questi mi assicurano con una penale che al 31 dicembre del 2019 o al 1 gennaio del 2020 sono pronto, parto.